La procura ha concluso le indagini e ha richiesto il giudizio immediato per Franco Panariello, il 55enne detenuto a Montacuto, con l'accusa di aver brutalmente assassinato a coltellate la moglie Concetta Marruocco, conosciuta come Titi, da cui si stava separando. Il delitto è avvenuto cinque mesi fa a Cerreto Desi nella notte del 14 ottobre. Su istanza del PM Paolo Gubirelli, il GIP Sonia Piermartini ha fissato la prima udienza del processo per il 21 giugno presso la Corte d'Assise. L'accusa per Panariello è di omicidio volontario aggravato dal legame con la vittima e dalla sua minorata difesa, poiché l'uomo era entrato in casa mentre la moglie, di 53 anni, dormiva. Il possesso del coltello costituisce un reato a parte. Essendo un reo confesso e affrontando accuse potenzialmente punibili con l'ergastolo, Panariello non può beneficiare del rito abbreviato che permette una riduzione della pena. Tuttavia, il suo difensore, l'avvocato Ruggero Benvenuto, ha presentato un'istanza al GIP che potrebbe influenzare lo svolgimento del processo. Benvenuto ha chiesto l'accesso al rito abbreviato e ha sollevato una questione di incostituzionalità riguardo alla diversificazione della natura del vincolo affettivo. Secondo la difesa, se Panariello fosse stato già divorziato dalla Marrocco, l'accusa non sarebbe di ergastolo e quindi avrebbe potuto accedere al rito abbreviato. Questo potrebbe portare a una prima valutazione in Italia sulla questione dell'uguaglianza sugli omicidi del coniuge senza la diversificazione della figura della vittima, spiega il difensore, che auspica che il tribunale esamini la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata. Per quanto riguarda i fatti, l'omicidio è avvenuto di notte nella casa familiare da cui Panariello era stato allontanato dopo una misura cautelare imposta dal GIP a seguito di una denuncia per maltrattamenti presentata dalla Marrocco che lavorava come infermiera ammatelica. Panariello ha ammesso di essere entrato in casa con un vecchio mazzo di chiavi e di aver voluto chiarire le accuse mosse contro di lui. Tuttavia l'incontro è degenerato e dopo una violenta lite, Panariello ha inflitto 43 coltellate alla moglie, concludendo con un messaggio sconvolgente alla figlia, chiama i carabinieri ho fatto un casino.